è la mia c'era un pezzo bellissimo di gibram che dicevano i genitori devono essere archi i figli frecce e li devono lasciare andare no lanciare dare la direzione e poi e poi loro devono farsi quindi il giusto equilibrio tra l'amore la presenza e lasciarti libero di scegliere di sbagliare di fare quello che ti serve per diventare una persona la persona che vorrai grazie